Mi piaceva cercare di analizzare un pochino la bravura di Tostoi nella sua scrittura, capire perché ha questo enorme talento, come sa scrivere. E volevo per questo prendere in esame due capitoli della prima parte di Anna Carienina, che secondo me illustrano questa sua bravura e quindi magari farne un attimo la disamina, un po' non riga per riga, ma insomma analizzandone i vari paragrafi. Qual è la situazione? Siamo agli inizi del romanzo e cerchiamo di vedere quali sono i personaggi in scena. Il primo è Stefan Arkadiz Stiva, che tradisce, mi pare, con la governante e la moglie. La moglie è molto afflitta per questo tradimento, non sa, è molto in crisi perché ha cinque figli, si è già, diciamo, un po' abbruttita rispetto alla bellezza iniziale, molto giovane ancora, siamo a poco più di trent'anni. E quindi non sa, con questi figli, se deve tener fede al suo orgoglio e quindi andarsene. E quindi abbandonare il marito, punirlo per il tradimento che non riesce a sopportare, oppure perdonarlo in qualche modo. Il marito, insomma, sì, non si rende neanche completamente conto, è pentito, ma, insomma, lui non vede un disastro così grande nella sua vita, il fatto di aver ceduto a questa debolezza, di aver avuto questo tradimento. Ma la moglie scopre una lettera, insomma, che lui indirizzava, questa governante, insomma, che lo accusa. E quindi c'è questa situazione di crisi familiare, insomma, importante, alla quale si cerca di porre rimedio. E come porre rimedio? Entrano in scena due personaggi, due personaggi che saranno poi due personaggi chiave del romanzo. Entra in scena Kitty, che è la sorella minore di Daria, della moglie di Stefan Arkadiz, che discende da una nobile famiglia, la famiglia Sharbansky, credo che si pronunzi così. Quindi Kitty cerca di convincerla, insomma, cerca di intervenire. E nello stesso modo cerca anche di intervenire un amico ancora di scuola, un antico compagno di scuola, Lievin. Che cerca di convincere Stefano Arkadiz, in qualche modo, a chiedere perdono alla moglie tradita. E quindi di farsi perdonare, di umiliarsi un po' ai suoi piedi e di farsi perdonare. Oltre a questi due personaggi, ne entra in scena un altro. Viene chiamata in soccorso Anna Carienina, la quale arriva da Pietroburgo, a Mosca, dove si svolge la situazione. Viene appunto sorella di Stefano Arkadiz. Riesce, in qualche modo, a mettere pazza e far capire a Daria che deve perdonare il marito. Insomma, lo fa con molto tatto, con molto stile. È molto brava nel non giudicare, insomma, nel stare dalla parte di Daria, ma nello stesso tempo di convincerla che è il caso di perdonare. E quindi questi sono i personaggi che entrano in gioco. Ma in realtà, diciamo così, c'è anche un'altra storia importante, che è questa di Lievin, che era venuto dalla sua tenuta di campagna a Mosca, perché è innamorato di Kitty. E' anche timido, lui è il buono della situazione, insomma, si vedrà. Insomma, è quello che viene dalla campagna, quello che sta in campagna e che vive la vita semplice, diciamo così, pur essendo di nobili origini. E lui viene perché è innamorato di Kitty e vorrebbe chiedere la sua mano. Vorrebbe sposare Kitty, insomma, lui vuole fare le cose seriamente. Non è uno che vorrebbe prendersi gioco di una ragazza, avere una relazione. Insomma, lui vorrebbe seriamente sposare Kitty. Ma Kitty, che è la sorella minore, insomma, ancora in una fase giovanile, ancora in una fase di entusiasmo per la vita, lo vedremo, insomma. Questa Kitty, in realtà, si è vista, non si è vista, ha visto, insomma, ha già preso di mira un giovane ufficiale, Vronsky, il quale giovane ufficiale l'aveva molto colpita. E quindi sperava di farsi chiedere il moglie da lui. Vive questa contraddizione. Sì, prova anche qualcosa per Lievin, ma vorrebbe farsi chiedere, insomma, ambisce, ma infatuata, diciamo così, di Vronsky. E quindi, nel momento in cui Lievin le chiede timidamente la mano, lei prende tempo e dice sostanzialmente di no, perché spera che Vronsky la chieda. E Vronsky, in realtà, non è in questa fase, insomma, di chiedere la mano, di sposarsi, insomma, in questo momento. Se non che, Kitty ci spera, insomma, ci crede. E come vuole verificare questa sua aspettativa? C'è un ballo, c'è un grande ballo che si dà in queste famiglie nobiliari di Mosca, si danno questi grandi balli, ce n'è una soprattutto, in cui si verifica questa situazione, insomma. C'è questo ballo e a questo ballo è invitata Kitty, ci andrà Vronsky e ci andrà anche Anna Carienina. Invece non ci andrà, perché se ne tornerà un po' umiliato, se ne tornerà Lievin. Quindi non ci sarà Lievin, ma in realtà Kitty ha tutte le aspettative, è molto entusiasta perché sa che probabilmente Vronsky la chiederà, o almeno secondo quello che lei desidera, secondo il suo desiderio. Quale potrebbe essere il momento, insomma, no? Perché questi balli poi, no? Sono balli di gruppo, sono organizzati, allora c'è la quadriglia, insomma, c'è anche un organizzatore delle danze, un coordinatore delle danze, il quale si dà da fare a mettere insieme le coppie, a creare i gruppi, insomma, dà l'andamento, le scadenze, i tempi dei balli, insomma, i ritmi, tutte queste cose qua. Ma in realtà il momento del ballo in cui si può parlare sarà la mazzurca, che è un ballo relativamente lento e dove i ballerini si accoppiano e, cioè, si mettono in coppia e durante questa... mettersi in coppia e durante questo ballo possono parlare. E quindi Kitty ha molte aspettative sulla mazzurca, che è il momento in cui, secondo lei, Vronsky dovrebbe dichiararsi. A questo ballo, però, ci va anche Anna. Ci va anche Anna, la quale, contro le aspettative di Kitty, si dimostrerà essere la sua rivale. E questo è il momento clou, è questo momento, secondo me, in cui c'è la genialità di scrittore, di Tolstoi, che descrive questa situazione. Intanto l'entusiasmo con cui Kitty arriva, sapendo poi di essere bella, graziosa, giovane, di attirare l'attenzione della gente, no? E quindi come si veste i preparativi con cui Kitty si presenta al ballo, che vedremo come saranno rappresentati da Tolstoi. E come, in realtà, vive la situazione e la sua antagonista, cioè Anna Carienina, che si presenterà, invece, vestita di nero, ma cui non sarà, diciamo, il vestito a farla risaltare, ma sarà lei a risaltare sul vestito. Sarà la bellezza di Anna che userà il vestito, come dice Tolstoi, da cornice, e quindi che si imporrà. E poi ci sarà questo momento, e qua la genialità anche, no? Dello scrittore, in cui attraverso gli occhi di Kitty si coglierà il momento dell'innamoramento di Anna Carienina con Vronsky. Quindi Kitty leggerà, non nelle parole, ma negli sguardi di Anna Carienina e di Vronsky, nei loro atteggiamenti, nelle loro espressioni del corpo, non verbali, in tutto quello che è non verbale, negli occhi, nella luce degli occhi, nella luce degli sguardi di questi due, e Kitty realizzerà la propria sconfitta, nel senso che intuirà che tra loro due è nato qualcosa con il quale lei non può competere. E quindi un po' alla volta arriverà a capire la sua sconfitta, quindi realizzerà la sua delusione. Cioè tutte le aspettative che aveva in questo amore, nel fatto che lui l'avrebbe chiesta, verranno eliminate, non verranno realizzate. In tutto questo, diciamo così, la cornice del ballo, tutta la spettacolarità di questa scena, che è una scena grandiosa, questo ballo, non so, filmicamente, viene a pensare al ballo del gatto pardo, quindi tutto questo sarà visto attraverso gli occhi di Kitty, e Tolstoi non dirà mai, cioè parlerà attraverso gli occhi di Kitty, e qua la bravura anche dello scrittore, di far capire questa scena, che è il primo momento dell'innamoramento, il grande momento dell'innamoramento di Anna Convronsky, che sono i due personaggi fondamentali del romanzo, vederlo attraverso gli occhi della rivale, e poi la descrizione che ne è fatta, le varie fasi con cui si sviluppa questa presa di coscienza, insomma, questa consapevolezza, come Kitty è intratriunfante, come Kitty si veste, e i particolari del vestito di Kitty, e poi tutto quello che succede intorno, ma tutto quello che succede intorno è solo la cornice, in cui diventa fondamentale invece tutto quello che passa nello sguardo, nelle aspettative, nel sentire, e quindi il fluire di queste emozioni di Kitty, come come evolvono attraverso quello che lei vede, attraverso quello che lei percepisce, attraverso anche l'ingombro degli altri personaggi che in qualche modo la disturbano da quello che è il suo obiettivo fondamentale, che è sempre lì, questa mazzurca in cui lui dovrebbe, ma che lui in qualche modo distegna di ballare con lei, e quindi si sentirà rifiutata. Ecco, allora, tutto questo è reso, a parte appunto, questa soluzione splendida di guardare tutto attraverso gli occhi di Kitty, di questa ragazza entusiasta, giovane, bella, ricca, che si aspetta in meglio e che si è infatuata, non innamorata, perché non è successo ancora niente tra lei e Vronsky, ma insomma si è infatuata di questo giovane e bello ufficiale che si presenta bene, insomma, e Tosso e tutto questo ce lo mostra, no? Vediamo un po' di sentire come lo descrive. Vi faccio presente che ho fatto la lettura e quindi potrete trovare poi la lettura di questi due capitoli a parte, in modo tale che la potete sentire direttamente senza essere interrotta da eventuali commenti che io faccio. Il ballo era appena cominciato quando Kitty, accompagnata dalla madre, faceva il suo ingresso sulla scala grande inondata di luce piena di fiori e di servitori incipriati e in giacca rossa. Il rosso ritorna spesso su intostoi. Allora, dalle sale giungeva un brusio prodotto da un movimento uniforme come un alveare. Cioè qualcosa che, no, Kitty è centrale, il resto è quasi fuori, no? Un brusio, un alveare. E mentre esse sul ripiano fra le piante si andavano acconciando lo specchio, le pettinature, gli abiti, dalla sala si udirono i suoni accorti e precisi dei violini dell'orchestra che avevano attaccato il primo walzer. Allora sono i personaggi un vecchietto borghese che salava a profumo di acqua di colonia e che ravvivava ad uno specchio le piccole tempie grigie. Si imbatté in loro sulla scala e facendosi da parte ammirò visibilmente Kitty che non conosceva. Un giovanotto in berbe, uno di quelli che il vecchio principe Szerbansky definiva Moscardini con un panciotto esageratamente aperto e una cravatta bianca che si andava aggiustando nel camminare la salutò, passò oltre e tornò indietro per invitare Kitty per la quadriglia. Quindi insomma i vari personaggi si accorgono di Kitty e o la invitano o comunque le fanno le riverenze. La prima quadriglia era già stata concessa a Vronsky e fu quindi concessa al giovanotto la seconda. Un ufficiale che si abbottonava a un guanto si scansò presso la porta e accarezzandosi i baffi ammirò la rosa e a Kitty. Quindi quando lei entra chi la incontra l'ammira le fa un gesto di reverenza o la invita. Sebbene l'abito l'acconciatura i preparativi tutti del ballo fossero costati a Kitty grandi fatiche e riflessioni in questo momento e la entrava al ballo così disinvolta e naturale nel suo complicato vestito di tulle con trasparente rosa come se tutte quelle roselline e quelle trine e i particolari dell'abbigliamento non fossero costati a lei e a quelli di casa neppure un attimo di attenzione come se ella fosse venuta al mondo in quel tulle in quelle trine in quell'acconciatura alta con una rosa e due foglioline in cima quindi no si presenta aerea piena di trine con questa conciatura che la faceva sembrare ancora più alta no splendida no quando la vecchia principessa prima di entrare in sala volle aggiustarle un nastro alla cintura che si era spostato Kitty si tirò leggermente indietro sentiva che tutto andava bene e si aggraziava addosso a lei e che non c'era più nulla da ritoccare era perfetta e poi non solo quindi l'aspetto fisico ma poi anche l'aspetto interiore no Kitty era in una delle sue giornate felici tutto era perfetto allora l'abito non tirava da nessuna parte da nessuna parte pendeva la Berta di Pizzo le roselline non si erano sgualcite né staccate tutte quelle cose che accadono quando qualcuno si mette in ghignoli e poi c'è sempre qualcosa che non va ma lei era perfetta cioè tutto era preparato per l'occasione aspettata no le piccole scarpe rosa sui tacchieri curvi non premevano ma rallegravano il piedino sentite come scrive le folte bende di posticci biondi si mantenevano come naturali sulla piccola testa tutti e tre i bottoni si erano chiusi senza staccarsi sul guanto lungo che le avvolgeva il braccio rilevandone la forma e poi c'era questo particolare del vellutino il vellutino nero del medaglione cingeva il collo proprio con tenerezza le parole che adopera questo vellutino era un incanto e a casa guardandosi allo specchio il collo Chitti aveva sentito che quel nastrino parlava per tutto il resto avrebbe potuto sussistere ancora qualche dubbio ma il vellutino era un incanto il particolare che in qualche modo condiziona in questo caso in maniera positiva tutto il resto a volte è il contrario c'è tutto che va bene ma un particolare che disturba qui è invece il particolare che esalta anche tutto il resto ed è questo vellutino che le che le accarezza il collo anche qui al ballo Chitti sorrise nel guardarlo allo specchio si compiace su per le spalle e le braccia nude Chitti sentiva freddo come di marmo sensazione che amava in modo particolare gli occhi le scintillavano e questo particolare degli occhi che scintillano è un particolare che ritornano spesso su Tolstoi e le labbra vermiglie non potevano non sorridere della consapevolezza del proprio incanto quindi l'aspetto esteriore e il suo sentirsi e queste due cose concordano lei si sente perfetta sa di essere incantevole quindi sa di avere tutte le prerogative per realizzare il suo sogno cioè la dichiarazione di di Vronsky non fece in trempo entrare in sala e aggiungere fino alla folla variegata tutta tull nastri pizzi e fiori delle signore in attesa di essere invitate Chitti non si trovava mai fra queste che fu già invitata al waltzer e dal migliore dal primo cavaliere nella gerarchia dei balli da un noto direttore di danze gran cerimoniere ammogliato piacente e ben fatto e Gorushka Korsunski quindi insomma non fa neanche tempo a entrare che già il direttore delle danze la chiama per la quadriglia insomma è aspettata insomma lasciata allora allora la contessa Bonina con la quale aveva ballato un primo giro di waltzer questi aveva dato uno sguardo intorno alla sua corte di coppie danzanti e avendo visto Chitti entrare era corso verso di lei con quella particolare andatura disinvolta propria dei direttori di danze e dopo essersi inchinato senza neppure chiedere se la volesse o no aveva alzato il braccio per cingerle la vita sottile Chitti si voltò per consegnare a qualcuno il ventaglio e la padrona di casa glielo prese gentilmente come avete fatto bene a venire per tempo gli disse cingendola alla vita che modo è quello di arrivare in ritardo quindi insomma la congratula anche perché è arrivata in anticipo lui pensa che sia arrivato in anticipo così ma invece lei è arrivata in anticipo perché aveva fretta di realizzare il suo sogno piegato il braccio sinistro e lei lo appoggiò e lo appoggiò alla spalla di lui e i piccoli piedi si mossero nelle scarpette rosa veloci e leggeri a tempo di musica sul pavimento levigato è un riposo ballare il waltzer con voi disse lui lanciandosi nei primi passi lenti del waltzer un incanto una piuma queste magari sono cose che lui dice a tutti che precision diceva ripetendo a lei quel che diceva quasi tutte le sue brave dama e qui no perché diceva tutte le sue brave dame e qui rientra un po' la retorica no del mondo della nobiltà insomma no del mondo ricco del mondo della città no quello che si diceva quella retorica che fa sì che ci siano delle formule convenzionali che valgono per tutte no lui il cerimoniere è comunque convenzionale no usa quelle formule che usa per tutti non è spontaneo diciamo così mentre lei bene o male nella sua ingenuità nella sua nel suo entusiasmo nella sua aspettativa ha questa sua naturalezza questa sua spontaneità perché è l'emozione che che in qualche modo la rende vera e la sorrise della lode e continua a osservare la sala al di sopra della spalla di lui quindi lei guarda mentre balla lei ha un'intenzione insomma e quindi si guarda intorno deve capire cosa sta facendo Avronsky e deve vedere se c'è e cosa sta facendo non era entrata in società da così poco tempo che bene che scrive qua no non era entrata in società da così poco tempo che al ballo tutti i visi potessero fondersi in un'unica estatica visione cioè c'era già da un pezzo per capire che come dire per vedere che non tutte le facce erano uguali insomma quindi per poter riconoscere i vari elementi che componevano quella scena non era neppure assidua frequentatrice alla quale tutti i visi potessero essere noti così da poterne ricevere noia cioè era in quella fase in cui era ancora curiosa non annoiata perché conosceva già tutti e non sorpresa perché non conosceva nessuno e quindi era la ricerca insomma era a metà in questa situazione in cui ancora cercava le facce che potevano essere interessanti che poteva riconoscere che invece poteva ignorare animata ma nello stesso tempo padrona di sé tanto da poter osservare animata ma nello stesso tempo padrona di sé tanto da poter osservare quindi lei è ancora spontanea osserva si guarda intorno con curiosità vera nell'angolo a sinistra vide che si era raccolto il fiore della società là inverosimilmente scollata stava la bella Lidi moglie di Korsunski là c'era la padrona di casa e là brillava con la sua calvizia Crivin sempre presente nella cerchia migliore ha individuato dove stavano i nobili i più i più alti nella gerarchia là guardavano i giovanissimi non osando accostarsi ed ella trovò Stiba e subito dopo vide la testa e la figura di Anna in abito di velluto nero a questo punto lei individua Anna e vediamo cosa succede no Anna come si presenta mentre lei ha tutatrine pizzi bianco viole merletti e così via Anna ha un semplice vestuto nero di velluto nero e anche lui era là e lui lo scrive in corsivo lui chi va Vronsky no anche Vronsky che lei cercava che anche Kitty cercava anche Vronsky era là Kitty non l'aveva visto da quella sera in cui aveva detto di no a Levin con i suoi occhi presbiti e questo è un particolare che ritorna spesso vi ricordate questi particolari questa particolarità stilistica di Tolstoi in cui diciamo alcuni particolari ritornano e caratterizzano il personaggio con i suoi occhi presbiti lo riconobbe subito e notò che la guardava lo stava cercando quindi insomma lei che sa guardare meglio da lontano che da vicino lo riconosce subito e nota che la sta guardando quindi ancora la speranza c'è no? ebbene ancora un giro forse siete stanca disse Korsusky sentendola leggermente alzante e la a questo punto dice no grazie dove volete che vi accompagni gli chiede e lei dice la carenina è là accompagnatemi là da lei ai vostri ordini gli dice il direttore delle danze e Korsusky riprese a ballare il waltzer smorzando l'andatura e dirigendosi verso il gruppo che era nell'angolo a sinistra della sala morborando pardon mesdame pardon pardon mesdame qui là bordeggiando fra un mare di trine di tulle di nastri senza impigliarvisi neppure per un pelo girò brusco la dama così che si scoprirono le gambe sottili nelle calze traforate e lo strascico si aprì a ventaglio e coprì le ginocchia di Krivin no questo è particolare Korsusky sinchi no raddezzò il petto aperto e la dia della mano per accompagnarla da Anna Arkadievna Kitty a questo punto l'emozione la prende rossa in viso liberò lo strascico dalle ginocchia di Krivin e ancora stordita si voltò a cercare Anna cerca Anna che sa che è insieme con Vronsky Anna non era in lilla perché le aveva consigliato prima aveva consigliato lei prima ad Anna di vestirsi in lilla ma Anna non era in lilla come proprio avrebbe voluto Kitty ma aveva un abito di velluto nero molto scollato che le scopriva le spalle piene e tornite di avorio antico il petto e le braccia tonde dal polso minuscolo tutto l'abito era ornato di merletto veneziano in testa sui capelli neri tutti suoi aveva una piccola corona di violette e un'altra simile sul nastro nero della cintura fra lettrine bianche la pettinatura era semplice spiccavano soltanto quelle brevi anelle restie di capelli rizi che aggraziandola si sbrizzavano continuamente sulla nuca e alle tempie al collo tornito e forte aveva un filo di perle quindi diciamo Anna ha questi particolari che la caratterizzano da un vestito nero una grande scollatura e questi piccoli particolari questi piccoli ornamenti che la connotano chi ti vedeva Anna ogni giorno era incantata di lei e si era raffigurata sempre in lilla ma ora vedendola in nero sentì che non aveva afferrato tutto il suo fascino la coglie più bella più fascinosa di quella di quello che sarà immaginata la pariva è completamente nuova e inaspettata Anna è quella che diciamo si presenta per prima davanti a lei che connota per prima capì ora che Anna non avrebbe potuto essere vestita in lilla e che il fascino suo consisteva nell'emergere sempre dall'abbigliamento così che l'abito indossato da lei non venisse notato no quindi era Anna che si notava non l'abito era la sostanza non la forma che si notava il vestito nero con i merletti pregiati neppure si notava era solamente una cornice e ne balzava fuori lei semplice naturale elegante e nello stesso tempo gaia e viva e com'è Anna stava in piedi tenendosi come sempre straordinariamente dritta e quando Kitty si avvicinò al gruppo parlava col padrone di casa volgendo lieve il capo verso di lui quindi atteggiamento naturale no no io non scaglierò la prima pietra rispondeva ben che non capisca aggiunse alzando le spalle e subito si rivolse a Kitty con un tenero sorriso di protezione colto in un fuggevole sguardo femminile tutto l'abbigliamento di Kitty le fece con la testa un'appena percettibile ma ben comprensibile ceno d'approvazione per l'abito e per la bellezza voi entrate in sala ballando disse no poche poche mosse no Anna non è così esuberante no viene tutto da da dentro no e quindi le basta un piccolo sguardo per accorgersi di Kitty e un piccolo cenno di saluto ma che Kitty capisce subito bene cenno di saluto e di approvazione per l'abito e per la bellezza no le due cose non sono esattamente simmetriche no la bellezza è un qualcosa che viene più da dentro l'abito è un qualcosa di più esteriore voi entrate in sala ballando disse è una delle più fedeli collaboratrici disse Korsunski salutando Anna Arkadievna che non l'aveva ancora visto Anna Arkadievna un giro di waltzer disse inchinandosi Korsunski chiede ad Anna a questo punto di ballare ah vi conoscete disse la padrona di casa chi non ci conosce mia moglie e Dio siamo come lupi bianchi tutti ci conoscono rispose Korsunski un giro di waltzer Anna Arkadievna ritorna a chiedere di ballare e Anna gli dice io non ballo quando è possibile farne a meno ma oggi non se ne può fare a meno rispose Korsunski in quel momento si avvicina a Wronski e quindi Anna ha già messo gli occhi addosso a Wronski ebbene se oggi non si può fare a meno allora andiamo disse lei il sentonotale l'inchino di Wronski e sto levando rapida la mano sulla spalla di Korsunski no la raffinatezza di sapere come si comportano le donne no cioè Anna fa finta che Wronski non gli interessi niente e quindi quando arriva Wronski quando sta per arrivare Wronski va a ballare con l'altro no dice a Korsunski va bene allora andiamo se oggi non se ne può fare a meno ma fa questo per dare un messaggio a Wronski no è come per dire io non mi interesso di te devi essere tu in qualche modo a cercarmi e Kitty nota la scena no e si chiede il discorso è interiore no perché è scontenta di lui penso a Kitty avendo notato che Anna determinatamente non aveva risposto all'inchino di Wronski Wronski si accostò a Kitty per ricordarle la prima quadriglia rammaricandosi di non aver avuto il piacere di vederla in tutto quel tempo Kitty guardava ammirata Anna che ballava al waltzer e intanto ascoltava lui si aspettava di essere invitata al waltzer da Wronski ma egli non lo fece e lei lo guardò con sorpresa la prima delusione no diciamo Wronski in qualche modo viene rifiutato da questo primo momento no rifiutato da Anna Anna va a ballare con Gonsurski e lo fa apposta per attirare ancora di più l'attenzione di Wronski e Wronski a sua volta va da Kitty per dirle guarda mi avevi promesso la prima quadriglia e non ho potuto vederti in tutto questo tempo ma insomma adesso sono qui no e Kitty in questo momento cosa fa guarda Anna che ballava al waltzer pur ascoltando Wronski si aspettava di essere invitata al waltzer ma egli non lo fece cioè la invita per la quadriglia non al waltzer e nel momento in cui lei si aspettava di essere invitata al waltzer e lui non la invita al primo momento di sorpresa tutto si svolge no in questa dimensione di sottilissima scherma tra i personaggi che sono interessati no che hanno questa diciamo c'è questa piccola lotta tra tra i vari personaggi che si svolge proprio nei meandri dell'animo no nei meandri dello sguardo si aspettava di essere invitata al waltzer ma egli non lo fece e lei lo guardò con sorpresa a questo punto Wronski arrossisce e si precipitò a chiederle il ballo ma non appena ebbe abbracciata la vita sottile di lei e mosso il primo passo la musica di colpo cessò insomma quando poi si decide Wronski a invitare Kitty a fare il waltzer appena cominciano a ballare la musica si ferma e quindi questo ballo non va avanti Kitty guardò quel viso che era così breve a distanza da lei quindi Kitty guarda ha occasione di guardare vis-à-vis la faccia di Wronski e in seguito e prova un'emozione e qui Tolstoi lo dice a modo suo e in seguito per parecchi lunghi anni quello sguardo pieno d'amore che la gli aveva rivolto e a cui egli non aveva risposto le angosciò il cuore di tormentosa vergogna qui addirittura Tolstoi usa una prolessi e e ci ricorda almeno a me ricorda una una prolessi che invece usa Marchese in cent'anni di solitudine no quando parla Aureliano Buendia mi pare si ricorderà in seguito di quello che era successo quella volta quando quindi anticipa in qualche modo qualcosa che succedere poi che sarà poi presente ancora durante la vita nell'emozione di Kitty nel pensiero di Kitty no cioè come Tolstoi descrive questa impressione no Kitty guarda Vronsky ce l'ha davanti e lo guarda in faccia e capisce dalla sua espressione che lui non è innamorato di lei mentre lei gli sta manifestando tutto il suo entusiasmo tutto il suo amore no e questa non risposta la ferisce se la ricorderà per sempre perché lui non risponde a questo sguardo si distacca perché è già preso evidentemente da Anna come tutto questo Tolstoi riesce a dirselo con le parole e poi se ne ricorderai anche con tormentosa vergogna cioè avrà vergogna di se stesso di quello che aveva provato in quel momento no vedremo poi quale sarà l'evoluzione di Kitty no e poi intanto nella sala diciamo così la le cose vanno avanti no la borghesia continua insomma no la nobiltà continua le convenzioni continuano no pardon pardon un waltzer un waltzer gridava dall'altra parte della sala Korsuski e presa a volo la prima signorina che gli capitò ricominciò a ballare insomma si capisce che dall'altra parte della sala il ballo era soltanto il ballo non era niente mentre per Kitty Anna il ballo era un'altra cosa c'era un'aspettativa ben diversa e c'era un conflitto una guerra che ben diversa che alitava nell'aria waltzer 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 con Kitty quel waltzer che poi viene interrotto subito dopo il waltzer Kitty si avvicinò alla madre ed aveva appena il tempo di scambiare qualche parola con la Norson che waltzer era già venuto a riprenderla per la prima quadriglia waltzer 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 ma la quadriglia non è un ballo che interessa a Kitty perché durante la quadriglia non si può parlare insomma no lei aspetta la mazurka durante la quadriglia infatti non fu detto nulla di particolare la conversazione smuzzicata si agirò ora sui consurschi marito e moglie che Vronsky descriveva con molta amenità ora sul futuro pubblico e solo una volta la toccò nel vivo quando egli le chiese se c'era Lievin e soggiunse che gli era piaciuto molto quindi nella quadriglia non si può parlare parlano così insomma di cose generiche che non interessano niente no ma Kitty non si aspettava infatti niente di più dalla quadriglia aspettava invece con trepidazione la mazurka e sembrava che nella mazurka si dovesse decidere tutto il fatto che durante la quadriglia egli non l'avesse invitata per la mazurka non li inquietava perché? perché era sicura era sicura di ballare la mazurka con lui come nelle altre feste e rifiutò cinque cavalieri dicendo di essere impegnata così come aveva già rifiutato Lievin che l'aveva chiesta in matrimonio tutto il ballo no? quindi fino all'ultima quadriglia fu per Kitty una magica visione di coglioni gioiosi di suoni e di movimento lei ha ancora l'aspettativa c'era stato un attimo di intuizione prima c'era stato quello sguardo no? quello sguardo che lei le aveva rivolto pieno d'amore e di cui non aveva colto la corrispondenza ma lei ancora spera ancora aspetta non ha ancora certezze tralasciava di ballare e chiedeva un po' di riposo solo quando si sentiva stanca ma ballando l'ultima quadriglia con uno di quei giovanotti uggiosi al quale non aveva voluto non aveva potuto dire di no venne a trovarsi vis-à-vis con Vronsky e Anna quindi durante l'ultima quadriglia lei si trova in faccia a Vronsky e Anna a un tratto la vide ancora del tutto nuova e insospettata riconobbe in lei i segni dell'eccitamento dovuto al successo che la stessa conosceva quindi vede che Anna è eccitata di quel successo che ha della gente che frequenta la sala quel successo che ha e anche con Vronsky successo che la stessa conosceva perché anche Kitty era abituata ad essere ammirata e guardata e ora si accorge che anche Anna lo è e quindi riconosce quello stato d'animo e riconosce anche i segni di quello stato d'animo vedeva che Anna era come inebriata dall'incanto suscitato conosceva questa sensazione ne conosceva i segni e li vedeva in Anna la cosa li conosce vedeva lo scintillio degli occhi tremulo e avvampante e il riso di felicità e di eccitamento che senza volere le increspava le labbra vedeva la grazia misurata la sicurezza e la levità dei movimenti questi particolari che che Toste riesce a cogliere no? ma per chi? allora si pone la domanda lei è così no? adesso è come sono io quando sono no quando sono smagliante nella mia forma tutti mi mirano eccetera ma per chi Anna è così? a questo punto si chiede si chiede Kitty per tutti o per uno solo e senza venire in aiuto il disgraziato giovanotto quel quale ballava e che si era lasciato sfuggire il filo di una conversazione iniziata e non riusciva a giannodarlo e prestando apparentemente orecchio alle forti grida allegra imperiose di Korsusky che ora lanciava tutti il suo grand round e ora una shine tutte cose che non interessano niente a Kitty che succedono nella sala ma che non interessano niente Kitty cosa fa? Kitty osservava e il cuore le si stringeva sempre di più aveva intuito aveva capito no non è l'ammirazione di tutti che l'ha inebriata si dice ma è l'esaltazione di uno solo e chi è quest'unico? il dubbio possibile che sia lui ogni volta che Vronsky parlava con Anna negli occhi di lei si accendeva uno scintillio gioioso e un riso di felicità increspava le sue labbra vermiglie no a questa constatazione adesso era come se ella volesse contenersi per non fare apparire questi segni ma questi salivano da soli sul suo viso e lui Kitty lo guardò ed ebbe paura ciò che con tanta chiarezza appariva nello specchio del viso di Anna Kitty lo vide anche in lui cioè Kitty vede nello specchio del viso di Anna i segni del suo innamoramento e a questo punto li riscontra dagli e quali anche sul viso di Vronsky capisce che i due ce la sono intesa dove erano più quell'atteggiamento calmo e deciso e quell'espressione del viso liberamente serena no ora ogni volta che egli si volveva a lei piegava un po' il capo quasi desideroso di caderle ai piedi e nello sguardo suo non vi era che un'espressione di sottomissione e di paura le conseguenze dell'innamoramento no diventa quasi schiavo di lei non voglio offendervi diceva ogni volta al suo sguardo ma voglio salvarmi e non so come cioè voglio salvarmi dalle conseguenze che l'innamoramento comporta di diventare schiavo dell'essere amato un'espressione quale non aveva mai vista in lui lui non era mai stato così parlavano di amici comuni facevano la più insignificante delle conversazioni ma a Chitti pareva che ogni parola pronunciata dicesse il loro e il suo destino ogni parola che loro dicevano in qualche modo era un coltello piantato sul petto di lei e lo strano era che in realtà pur parlando di come fosse ridicolo Ivan Ivanovich col suo francese e del fatto che per la LH si sarebbe potuto trovare un partito migliore tuttavia queste parole avevano un senso speciale per loro ed essi lo sentivano così come lo sentiva Chitti cioè parlavano di tutto ma attraverso le parole filtrava un altro messaggio un altro discorso che era il discorso amoroso e Chitti lo percepiva e quindi lo sentiva contro di lei insomma no perché la escludeva tutto il ballo il mondo intero tutto si coprì di nebbia nel cuore di Chitti un'altra espressione che Tolstoi usa è questo coprirsi di nebbia no la delusione adesso realizza e quindi tutto diventa scuro tutto diventa nebbia nel cuore di Chitti le vengono in aiuto come dire le convenzioni l'educazione che aveva ricevuta soltanto la severa educazione ricevuta la sosteneva e lo obbligava a fare quello che da lei si pretendeva cioè ballare rispondere alle domande parlare e sorridere persino la società l'altra società questo si aspettava e pretendeva da lei insomma no che ne era una componente anche se lei provava tutt'altro che questo ma prima che cominciasse la mazzurca quando già si allontanavano le sedie e alcune coppie si erano mosse dai salotti verso la grande sala Chitti fu presa da un attimo di disperazione e di sgomento la disperazione e lo sgomento è più forte di là insomma anche se si impone di essere così in realtà cede aveva rifiutato cinque cavalieri e ora non ballava la mazzurca e adesso lui non la chiedeva in ballo e quindi lei era seduta insomma non ballava non c'era neppure speranza che qualcuno la invitasse proprio perché ella aveva un così grande successo in società la gente era timida aveva paura di chiedere di ballare visto che era no la principessa e nessuno poteva venire in mente che non fosse impegnata fino a quel momento occorreva dire alla madre che non stava bene doveva trovare una scusa e voleva tornare a casa ma non ne aveva la forza era stroncata si ritirò in fondo a un piccolo salotto e si lasciò cadere su una poltrona allora qui c'è il particolare della gonna la gonna lieve con un soffio si sollevò come una nuvola intorno alla vita sottile la mano nuda magra e delicata di fanciulla abbandonata e senza forza affondò nelle pieghe della gonna rosa l'altra reggeva il ventaglio e con un movimento rapido rinfrescava il viso accaldato è come se volesse cercare di non svenire no cioè si faceva vento cioè da una parte era abbandonata dall'altra cercava di farsi vento perché l'emozione la stava sovrastando ma a dispetto di questa parvenza di farfalla attaccata appena a un filo d'erba e pronta a volar via aprendo le ali iridate un'angoscia paurosa la stringeva il cuore i due momenti no quello dell'apparenza sembrava ancora una farfalla pronta a volar via le zera le giadra e poi questa angoscia che le stringe il cuore e dalla quale non si sa riprendere no perché tutta la sua aspettativa tutto il suo essere tutta quella serata in cui aveva questa adesso non si sta realizzando ancora un ultimo dubbio le rimane ma forse mi sbaglio forse questo non è accaduto e di nuovo le tornava in mente quello che aveva visto adesso qui no ci vuole un momento di interruzione no di sblocco da questa situazione no narrativa e interviene un altro personaggio ma forse mi sbaglio forse questo non è accaduto e di nuovo le tornava in mente quello che aveva visto Kitty cosa è mai disse la contessa Nostone avvicinandosi senza far rumore sul tappeto non capisco a Kitty tremò il labbro inferiore si alzò in fretta altro particolare che gli torna spesso no questo labbro inferiore che trema Kitty non balli la mazzurca no no disse Kitty con voce che tremava di lacrime adesso questa qui insomma no questa contessa Nostone ha un gesto di indelicatezza con lui lui l'ha invitata davanti a me per la mazzurca disse la Nostone sapendo che Kitty avrebbe capito chi era lui e chi era lei lei ha detto non ballate forse con la principessa Shcherbanskaya e Kitty va finta di fregarsene e a me che importa rispose Kitty nessuno all'infuori di se stessa poteva capire la sua situazione nessuno sapeva che ella aveva detto di no il giorno prima a un uomo che forse amava perché era insicura se l'amava o no era infatuata di Vronsky quindi aveva detto di no a Levin e che gli aveva detto di no perché credeva in un altro credeva no anche qui la parola credeva in un altro non aveva certezza aveva speranze ma non aveva non c'era niente che le facesse che le desse sicurezza e qui ritorna la vita intorno la cortessa Norton trovò Korsusky col quale doveva ballare la mazzurca e gli impose di andare a invitare Kitty non si rendono conto quello che la circonda non capisce il dramma interiore di Kitty Kitty ballava nella prima fila e per sua fortuna non doveva parlare perché Korsusky correva su e giù tutto il tempo dando ordine al suo stuolo di ballerini e intanto Vronsky e Anna erano situati quasi di fronte a lei li vide da lontano con i suoi occhi presbiti li vide poi da vicino quando si incontrarono fra le coppie e più li vedeva più si convinceva che la rovina sua era compiuta adesso tutto le dà conferma della sua intuizione insomma che era diventata qualcosa di più vedeva che essi si sentivano soli in quella sala piena di gente e il suo viso di Vronsky sempre così deciso e libero vedeva quell'espressione di smarrimento e di sottomissione che l'aveva stupita l'espressione di un cane intelligente che si senta colpevole Anna rideva e il viso è questa questa contaminazione che c'è spesso del sentimento nei racconti di Tolstoi nei romanzi di Tolstoi Anna rideva e il riso si trasmetteva a lui Anna diveniva pensosa ed egli si faceva serio una forza magica attirava gli occhi di Kitty verso il viso di Anna Kitty non riusciva più a staccare gli occhi da Anna cercava di capire cosa c'era in lei che lei non aveva e cosa era successo insomma era come attirata da una forza magica Tolstoi magari in un altro racconto questa forza che la chiamerà il diavolo ma parla di Anna a questo punto e la era incantevole con quel semplice vestito nero ed incantevoli erano le braccia tonde con i brazzali e il collo forte e il filo di perle incantevole la capigliatura enanellata e sciolta e incantevoli dei movenze lievi dei piccoli piedi graziosi e delle mani e il viso piacente pieno di vita e poi c'era qualcosa di pauroso e di crudele in quell'incanto questa sequenza di frasi e la era incantevole con quel vestito e incantevole erano le braccia tonde e il collo filo di perle incantevole la capigliatura enanellata beh questa la troviamo ma la ritroviamo anche nel nome della rosa quando parlerà dell'incontro di Azzo con la donna e quindi quando lui scopre la nudità di questa donna con la quale si avrà un rapporto nel nome della rosa Kitty ammirava ancora più di prima anche qua c'è questo contrasto il contrasto tra l'ammirazione che non riesce a non avere e nello stesso tempo la sofferenza perché anche capisce che il nemico l'avversario non il nemico l'avversario è in qualche modo invincibile e l'ammirava ancora più di prima aveva vinto era diciamo meglio più attraente e quindi l'ammirava però in questa ammirazione c'è tutta la sofferenza della sconfitta insomma quindi Kitty l'ammirava ancora più di prima e sempre più soffriva si sentiva stroncata e il suo viso lo rivelava quando Vronsky scontrandosi con lei nella mazzurca la vide non la riconobbe al primo momento tant'era mutata era così cambiata dalla sofferenza da diventare irriconoscibile per Vronsky anche Vronsky diventa inautentico splendido ballo le disse tanto per dire qualcosa sì rispose lei Anna a questo punto cerca di fare qualcosa anche per Kitty no? e la vede un po' spaisata probabilmente durante la mazzurca ripetendo una figura complicata inventata da Vronsky Anna uscì nel mezzo del circolo prese dei cavalieri chiamò a sé una signora e Kitty Kitty la guardò come spaurita e le si accostò Anna la guardava socchiudendo gli occhi e sorridendo stringendole una mano ma visto che il viso di Kitty rispondeva al suo sorriso con disperata sorpresa si allontanò da lei e si rimisce a parlare allegramente con l'altra signora cioè si rende conto di aver fatto qualcosa in qualche modo di sbagliato no? sì c'è qualcosa di strano di diabolico e di affascinante in lei si diceva Kitty no questa capacità di attrazione no lo vedremo nel racconto il diavolo no? dove il protagonista è attratto da una forza irresistibile verso Stepanida che e dalla quale non riesce a staccarsi e per la quale alla fine si si provocherà la morte insomma causerà la sua distruzione no? questa forza irresistibile questa forza di attrazione diabolica di diabolico e di affascinante in lei si diceva Kitty Anna non voleva restare a cena ma il padrone di casa cominciò a pregarla vabbè a questo punto la festa finisce e i protagonisti vanno ognuno per conto proprio Kitty è rimasta sconfitta nella sua aspettativa insomma ha constatato il suo fallimento ecco io trovo grandissimo questo modo di di raccontare e soprattutto questo questi due paragrafi della prima parte in cui c'è un tostoi grandioso buona giornata grazie a tutti